Il nostro impegno è un valore umano davvero inestimabile. Vorrei esprimere un sentito ringraziamento al sindaco, all'avvocato Fernanda Gigliotti, all'amministrazione comunale, ai dirigenti della soggettà Costa del Lione e a tutti voi qui presenti che animate con la vostra presenza e il carosissimo entusiasmo questa giornata. Un altro grande ringraziamento ai volontari AISM che si sono impegnati ad essere presenti. Dovrò solo ringraziamento agli sponsor, c'è Cadere System, Fiorelli, Algon de Papi di Antonio e Caterina, Tabacchi e Articoli da Regalo, Mastroianni e Michela, Macelleria e Grandi Rezzi Gennaro, il chiosco Fiero e Pianti di Palma Medicino, Alimentare e Tabacchi Medicino Carmine, Terino e Costruzioni del Geometra Campisano. Ringrazio Publimax Comunicazione per aver offerto uno sponsor abbastanza efficiente, Don Francesco, Martina, Renato Grandinetti e Rossella. Grazie e buon inizio tornello. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti